Derivata dalla versione Wagon ST della media catalana, la nuova Seat Leone Experience è una Leone in South of Road, non solo nello stile, caratterizzato dalle protezioni per la carrozzeria, ma anche nella meccanica. La trasmissione è 4x4 a controllo elettronico, mentre le sospensioni hanno un'escursione superiore rispetto alla Leone ST. Fuori la carrozzeria è protetta da inserti in materiale plastico, scivoli in alluminio, cerchi a 5 razze doppie. Dentro, i designer Seat hanno giocato con i colori, rivestendo gli interni con tessuto nero e grigio. La Leone Experience permette alla Seat di entrare nel segmento C delle station wagon con trazione integrale. Arriverà in Italia in primavera e sarà disponibile nelle motorizzazioni 1.6 TDI da 110 CV e 2.0 TDI da 150 e 184 CV. Questa accattivante station wagon a quattro ruote motrici con design da fuoristrada è estremamente versatile e promette di adattarsi a qualsiasi condizione stradale e climatica, assicurando un eccellente piacere di guida.